Calano almeno statisticamente i casi di contagio da coronavirus in Sicilia. Ieri c'è stato un incremento di 94 contagiati, portando il totale a 1260 positivi, mentre attualmente sono ancora contagiate 1168 persone. Sono ricoverati in tutto 500 pazienti, di cui 75 in terapia intensiva, mentre 668 sono in isolamento domiciliare, 53 guariti e 39 deceduti. Tra le province più colpite, primeggia Catania con 344 casi, seguita da Messina 216 e Palermo 204. Il dato relativo ai contagi dal coronavirus in Sicilia che abbiamo diffuso ieri è incoraggiante, ma non deve farci abbassare la guardia, dichiara Ruggero Razza, assessore regionale alla salute. Allo stesso modo va segnalato che anche il dato dei ricoveri e delle terapie intensive è cresciuto di alcune unità e non in maniera esponenziale. Tuttavia l'attenzione deve rimanere altissima rispettando le prescrizioni previste dai protocolli. Per quanto riguarda il territorio nebroideo sta meglio la donna di Rocca di Caprileone, risultata positiva una settimana fa, a dichiararlo il sindaco Filippo Borrello. Anche i familiari della donna stanno bene, proseguono il loro isolamento e non presentano alcun tipo di sintomo. Inoltre, il risultato negativo al Covid-19, fortunatamente, il tampone è effettuato su un medico di famiglia di Mirto. La preoccupazione era cresciuta negli ultimi due giorni in cui la cittadinanza aspettava l'esito del test del tampone, che è stato analizzato dall'ospedale Cutroni Zoda di Barcellona a Pozzo di Gotto. Era stato lo stesso sindaco ad annunciare l'autuazione del test. Adesso è arrivato l'esito, che rassicura tutti i pazienti che erano entrati in contatto con il medico Mirtese. A Mirto si attende l'esito di un secondo tampone, anche questo eseguito ieri, che riguarda una giovane del luogo.